Le prospettive sono delle migliori perché abbiamo preso giocatori di categoria superiore, un allenatore che ha tanta voglia di farsi notare, già dalle prime battute si vede la sua mano. Vogliamo fare un campionato anche se si prospetta un girone duro con l'Avellinese e Beneventane messa insieme, 4-5 squadre allo stesso livello, cercheremo di fare il nostro campionato nel migliore dei modi. Credo che come sta la squadra faremo un campionato medio-alto. A detta del patron Bon Giovanni in casa San Martino si vola a basso, ma non è da escludere un eventuale cambio di programma in corso d'opera e quindi anche di obiettivi. Per ora la testa è tutta sul ritiro e poi sulla Coppa Italia. Abbiamo quasi rivoluzionato tutta la squadra, l'inizio della preparazione avverrà il 21 tra il campo e la montagna, avendo la fortuna di avere una bella montagna dove faremo la preparazione. Faremo una settimana molto intensa per prepararci al medio all'inizio di Coppa che sarà il 6 settembre.